e questo valore è possibile aprirla con procedure democratiche di partecipazione dove anche se si dovessero esprimere posizioni diverse questo non è un dramma. Guardate io non lo capisco. Una volta in Grau nel 66 era al diritto del dubbio. Mi pare che il 66 sia molto lontano. Io rivendico il diritto al dissenso. Mi pare che il diritto del dubbio che allora era considerato una bestemmia speriamo che faccia parte della storia. E allora qui nella relazione, nell'introduzione a me pareva in qualche modo anche di contribuire ad offrire un terreno di confronto interno alla CGL che deve avere questo respiro e deve avere questo respiro perché se non è così nella vita interna della CGL tutto corre il rischio di precipitare casomai non all'interno di una discussione di merito ma corre il rischio di precipitare quando si dovranno discutere gli inquadramenti o si dovrà discutere chi deve entrare o non deve entrare nella segreteria della CGL tra due mesi. Ecco, io penso che quello sia il percorso peggiore per la CGL perché le lacerazioni che si determinassero sugli schieramenti, su chi entra e non entra questo sì che i lavoratori e le lavoratrici non capirebbero nulla di come funziona l'organizzazione. Ora dobbiamo con l'umiltà necessaria senza posizioni precostituite perché nessuno ha la risposta se non l'individuazione della dimensione del problema che abbiamo di fronte senza e lo dico anche per la FIOM per come discutiamo noi senza posizioni precostituite senza pensare che prima di fare una riunione ci sono le pre-riunioni per mettersi d'accordo se si accetta di fare un confronto di questa natura ognuno si mette in discussione personalmente perché questo vuol dire anche assumersi per intero le proprie responsabilità dentro una discussione ma questo ovviamente deve essere garantito dal punto di vista democratico del funzionamento dell'organizzazione in tutto questo c'è una specificità del nostro paese certo c'è una specificità che deriva dal fatto che noi abbiamo ancora un manifatturiero consistente probabilmente l'unico paese similare dal punto di vista della proporzione del manifatturiero nell'insieme del sistema produttivo e industriale e la Germania con una differenza che il nostro manifatturiero è collocato sulle fasce medio-basse del mercato a differenza del sistema industriale tedesco che è collocato sulle fasce medio-alte c'è una specificità che rimanda quindi a condizioni peggiorative rispetto a condizioni di altre realtà e che devo capire intero ed è stato qui richiamato i problemi relativi anche alla politica industriale alle scelte che si compiono dentro sempre una tendenza un processo generale in Germania adesso hanno portato via i cellulari non si fanno più la Nokia chiusa certo hanno dato una barca di soldi nell'accordo però è chiusa si sposta tutto in Romania in Italia invece sono sugli elettrodomestici che si è aperta la partita relativa ad un settore che trova nella produzione in Italia rispetto all'Europa uno dei punti uno dei punti fondamentali si esprime in modo diverso perché le specificità sono diverse ma dentro un quadro generale con cui siamo chiamati a fare i conti allora io insisto che ricostruire nella contrattazione nelle scelte che andremo a fare e che dovremo fare un'idea rispetto ai vincoli sociali rispetto ad una nuova progettualità da parte della CGL è elemento decisivo rispetto ad una tendenza in atto che va in direzione opposta che va verso la contrapposizione tra lavoratori nelle singole realtà e a livello internazionale dove l'insicurezza sociale come condizione di vita e di lavoro è la condizione materiale psicologica per individuare nell'altro povero il tuo avversario che di volta in volta diventano lavoratori stranieri o diventano i rom o diventano altri soggetti e se incroceremo un ciclo economico recessivo con questa situazione delle retribuzioni queste tendenze tenderanno ad essere ancora più consistenti in particolare in alcune aree del paese sta a noi ricostruire un'idea diversa e forse anzi senza forse siamo molto in ritardo rispetto a questo tipo di discussione e questo tipo di elaborazione perché ad un certo punto qualcosa bisognerà pur decidere tutti dicono riunificazione del lavoro bisogna ricomporre il ciclo qual è la realtà la realtà è che oramai le trasformazioni hanno assunto dimensioni tali che noi ci ritroviamo tra le altre cose ad uno scarto evidente tra quello che succede nel ciclo lavorativo e la struttura organizzativa della cgl la struttura in una molteplicità di categorie ma noi abbiamo la conferenza organizzazione qual è la proposta conferenza organizzazione si fanno ogni 10 o 15 anni qual è la proposta noi abbiamo proposto il sindacato dell'industria c'è un'altra proposta c'è un'altra proposta che viene discussa tra una settimana alla conferenza di organizzazione della cgl ma non risulta sta di fatto che stanno andando avanti processi di fusione di accorpamenti di categorie in una logica che è una logica come dire non trasparente perché non è dentro un progetto di carattere generale e per quanto ci riguarda per quanto riguarda la fiume noi dobbiamo fare i conti tutti i giorni con operazioni e con tentativi che tentano di ridurre i confini della categoria potremmo fare mille esempi abbiamo avuto delle storie nel passato che conosciamo ma li abbiamo tutti i giorni allora io insisto se l'obiettivo della contrattazione è quella della filiera di riunificare i lavoratori eccetera questo richiede anche la decisione su cosa vuole fare e cosa vogliamo fare in termini organizzativi come sindacato anche qui in Europa tutti ne stanno discutendo tutti stanno unificando delle categorie credo che non ci sia paese europeo dove stanno discutendo la fusione dei meccanici con altre categorie non ho qui il documento ma sarebbe stato curioso leggerlo non ce n'è uno di paese lasciando stare la Germania che è arrivata al sindacato al sindacato dell'industria ma noi che cosa decidiamo abbiamo la capacità e la volontà di aprire anche su questo terreno perché l'accorpamento delle categorie non può essere fatto a seconda che ci sia una posizione comune tra le categorie a seconda Grazie a tutti.